Buongiorno Desidera Occhiali da sole Si accomodi le faccio provare qualche modello Questi con lenti verdi sono una novità assoluta Lei dimentica Nerone Veramente non l'ho presente, è un cliente per caso Parlo dell'imperatore Nerone che usava guardare attraverso una lente verde ricavata da uno smeraldo Ale è un esperto di storia romana No, ho rivisto il Covadis la scorsa settimana Penso che a lei occorrono questo tipo di occhiali Fanno gufo Provi questi Fanno paura Provi questa novità I safet indigible Traduca Significa sicurezza nel Ghibli, il vento del deserto Non ho intenzione di andare nel deserto Ho chiesto occhiali da sole e non da vento E non sono una novità Effettivamente, comunque abbiamo tanti altri modelli Non si preoccupi Non mi preoccupi Alzi Ha trovato qualcosa che le piace? No grazie Ma lei è incontentabile Sempre E questa cos'è? È la lavatrice Ignis PM System Una novità assoluta nel campo delle lavatrici Ignis Con Ignis PM System si può scegliere la velocità più adatta per centrifugare il bucato 200 giri per tessuti delicati Da 300 a 400 giri per tessuti misti 600 giri per cotone e tessuti resistenti Con Ignis PM System anche le fibre più moderne non si spiegazzano e non si logorano Ignis PM System La compriamo Dalla scienza amica Ignis Dalla scienza amica Dalla scienza amica Dalla scienza amica